Allora, iniziamo la seconda parte della lezione di oggi con un argomento un pochino più tranquillo, visto che la ricorsione mette a dura prova il lunedì mattina. Infiliamo a questo punto un argomento un po' più semplice, che però era rimasto lì in sospeso e prima o poi dobbiamo togliere il dente. Quindi di tanto in tanto faremo delle lezioni un pochino meno pesanti rispetto a quelle di tipo più algoritmico. E parliamo finalmente della gestione delle informazioni temporali, quindi data e ora, date e orari in Java, che finora abbiamo cercato essenzialmente di evitare il più possibile. Ok, ricordate il nostro esercizio sul libretto dei voti, aveva un voto che conteneva solamente un nome e un punteggio. La data dell'esame non l'avevamo messa, facendo finta di dimenticarci, ma in realtà perché non volevamo ancora occuparci di questa cosa. E idem, nel database avevamo solamente queste due informazioni. Allora, perché abbiamo rimandato? Abbiamo rimandato perché la gestione delle informazioni temporali è sempre un gran pasticcio e in Java dobbiamo in qualche modo dribblare tra una serie di scelte sfortunate del passato. Ma prima cerchiamo di capire perché è un pasticcio. Perché un dato che sembrerebbe semplice, cioè la data, il giorno, anche l'orario, l'ora di adesso, in realtà è molto più complicato di quanto non sembra a prima vista. Noi ci barcameniamo, ma perché da quando siamo bambini, che ci hanno fatto abituare a contare il tempo in un modo che, se ci pensiamo bene, è molto arzigocolato. Cioè noi abbiamo anni, mesi, i mesi sono tutti diversi, poi si intrecciano con le settimane, che non coincidono mai con i mesi, e poi a seconda dell'anno i mesi possono avere lunghezze diverse, i famosi anni bisestili, che non capitano regolarmente, perché non è vero che sono uno su quattro, perché ogni cento ne salti uno e ogni quattro cento invece lo reinserisci. Insomma, regole che abbiamo imparato, senza pensare a regole più fini, di tipo ogni tanto non ce ne accorgiamo, ma di tanto in tanto avvengono delle correzioni di un secondo in più, un secondo in meno, nella giornata. Quindi ci sono alcuni giorni in cui le 23.59 non durano, il minuto delle 23.59 non dura 60 secondi, ma dura 61 secondi. Noi non ce ne accorgiamo, ma chiaramente, per fortuna adesso anche il discorso dell'ora legale, computer e cellulari si mettono a posto da soli, però ricordiamoci che l'ora legale uno non avviene in tutto il mondo nello stesso giorno, nello stesso momento, non avviene della stessa quantità. Insomma c'è una serie di complicazioni, non da poco, di cui bisognerebbe tenere conto se dovessimo veramente gestire bene queste informazioni. Questo è un problema comune, in qualunque linguaggio, in qualunque libreria informatica che debba gestire queste informazioni temporali deve fare i conti con la complessità del modo che abbiamo per misurare il tempo. Questo, ci ho messo due link, due siti, se volete dare un'occhiata così per divertimento, sono una serie di assunzioni, tutte errate, che si fanno sulla gestione del tempo. Come ad esempio che ci sono sempre 24 ore in un giorno, che non è vero chiaramente perché almeno due giorni all'anno, quando passiamo dall'ora solare all'ora legale o viceversa, ci saranno o 25 o 23 ore in quel giorno lì. Allora se voi fate un calcolo, che ne so, anche solo il costo di un servizio che costa 10 euro all'ora, lì dovete fare attenzione che se capita la notte in cui sposto l'ora avanti devo fatturare un'ora in più, anziché viceversa. Ma questo è solo il punto 1. Ciascuna di queste altre frasi a prima lettura sembra quasi ragionevole e poi se uno ci pensa ci sono dei casi particolari in cui non è vera. Questo è un altro sito che raccoglie questi errori di percezione del calendario. Perché in realtà quando noi parliamo di rappresentare il tempo, stiamo rappresentando tante cose diverse, stiamo pensando tante cose diverse. A volte ci interessa, che è la cosa più semplice, rappresentare un istante di tempo. Se io dico adesso, se non entriamo nella relatività di Einstein, è un concetto noto, ben definito, in tutto il mondo. Se io dico adesso, sto parlando di un istante di tempo che è valido su tutto il pianeta. Poi ciascuno lo chiamerà in un modo diverso, gli appiccicherà una data e un'ora diversa a questo istante di tempo. Però basta fare riferimento all'istante in cui l'uomo è atterrato sulla Luna. Quello è un istante di tempo fisso. Se io faccio riferimento a un ben preciso sistema di calendario, tipo il nostro calendario gregoriano, e un ben preciso fuso orario, come ad esempio quello di Greenwich, che è fuso orario zero, allora ho una rappresentazione univoca, anno, mese, giorno, ora, minuti, secondi, di quell'evento. È chiaro che se lo rappresento su fusi orari diversi, avrà una rappresentazione diversa, ma comunque l'evento è uno solo. Questo è il modo più semplice di rappresentare il tempo. Poi però ci sono varie varianti, ad esempio posso essere interessato a parlare semplicemente di un giorno, oggi. Oggi vuol dire che do l'informazione sul giorno, ma non ti do l'informazione sull'ora. Ok? Quindi ho un'informazione che in realtà rappresenta un intervallo di tempo, che per me è identificato solamente da una data, ignorando l'ora. Quindi è una rappresentazione diversa rispetto a un istante di tempo. Cioè quando io dico oggi, cosa sto dicendo? Oggi è mezzanotte? 0,0,0? Oppure mezzogiorno, il punto di medio della giornata? Non lo so. In realtà non mi interessa. Il mio compleanno mi interessa il giorno in cui sono nato, e non necessariamente l'ora. O viceversa, gli orari. L'orario del lavoro è dalle 9 alle 17. Di che giorno? Beh, di tutti i giorni in cui vai a lavorare. Quindi sono informazioni disaggregate. Solo quando le metto insieme posso avere un punto nel tempo. Quindi vuol dire che nei nostri programmi dovremmo essere capaci di gestire varie sfumature del modo in cui rappresentiamo il tempo. Poi ci sono cose più complicate come le date ricorrenti, no? Natale, vabbè, è facile perché è sempre il 25 dicembre. Di che anno? Tutti gli anni. Ovviamente anche qua il 29 febbraio dire che capita tutti gli anni è falso. Quindi anche qua sono date ricorrenti con delle trappole dentro, no? Oppure a volte parliamo di intervalli di tempo, no? Ok, allora devo fare, devo mettere il mio Gipomeggio a studiare per tre ore. Quella è una durata. Da che ora inizio e che ora finisco? Non lo sto specificando. Sto specificando che un lavoro impiega tre ore e può essere posizionato a partire da istanti di tempo diversi. Qui c'è tutta una aritmetica, no? Che se dobbiamo entrare nel merito è complicata da studiare. Ma noi cerchiamo di semplificare, separare e provare a capire come rappresentare queste cose. Allora, esistono due nozioni diverse, molto separate, di rappresentazione del tempo che chiamiamo per semplicità tempo macchina e tempo umano. Il tempo macchina è una rappresentazione lineare del tempo. Quando noi ci immaginiamo la linea del tempo, l'asse T, che parte qualche miliardo di anni nel passato e va avanti a un certo punto dell'istante attuale e il punto dell'istante attuale va avanti in modo sempre crescente. Allora, questo è il modo più semplice per rappresentare gli istanti di tempo. Questa linea del tempo va avanti ogni nanosecondo, va avanti ciò che noi chiamiamo now, adesso, va avanti inesorabilmente a un ritmo fisso, lungo la linea del tempo. Allora, questo è il modo più semplice per rappresentare gli istanti di tempo e soprattutto in una macchina. E infatti il metodo più semplice, più diretto, di base, con cui tutti i computer misurano il tempo è calcolare il numero di millisecondi, microsecondi, nanosecondi, dipende dalla precisione, dipende poi alla fine del sistema operativo che stiamo usando, a partire da un determinato punto nel passato, ipoteticamente nel passato. Ad esempio, tutti i sistemi operativi basati su Linux e compagnia bella misurano il tempo in microsecondi a partire dal primo gennaio 1970. In quella data non c'è nulla di particolare, attenzione, no, scusa, primo gennaio 1970 alle ore 0.00 sul fuso orario 0, sul fuso orario di Greenwich, perché altrimenti non ho letto tutto. Hanno scelto quella data, potrebbero scegliere una scoperta dell'America o qualunque altra cosa. Hanno scelto uno 0 e da lì si calcola. Quindi all'interno del calcolatore un istante di tempo non è altro che un numero intero, è rappresentato come un numero intero, che adesso è arrivato a qualche centinaia di milioni, forse anche di più di millisecondi dal 1970. Chiaramente le date antecedenti al 1970 saranno rappresentate dai numeri negativi, ma chi se frega, è solamente un valore intero. E questo è un valore intero che è monotono crescente, cresce sempre col tempo, sempre a stessa velocità, e rappresenta sempre un istante univoco nel mondo, non dipende dal fuso orario o da altro, dipende semplicemente da quanto tempo è passato rispetto a quell'istante fisso nel tempo. Poi invece c'è tutta la complicazione di come gli umani misurano il tempo, quindi anni, mesi, settimane, giorni, eccetera, eccetera, che in qualche modo si può ricavare dall'istante di tempo macchina, chiaramente tenendo conto dei vari dettagli, tipo il calendario, l'anno di bisestile, in che fuso orario siamo, siamo restati all'inverno, quindi c'è l'ora legale oppure no, con tutte queste informazioni aggiuntive posso fare le conversioni tra un istante di tempo assoluto e un tempo umano, cioè così come lo rappresentiamo noi. E su questo tipo di dati che cosa deve fare il mio programma? Immaginiamo un programma, la prima cosa che dovrà fare è magari legge una stringa, io inserisco la data, no? Oggi è il 4 o il 5. 4 aprile, si vuole 4 barra 4 barra 2022. Quella è una stringa di testo e lui deve estrarre giorno, mese, anno e costruire un oggetto che rappresenta la data di oggi e poi eventualmente convertirla in un istante di tempo macchina che rappresenta l'istante attuale. Quindi da stringa a informazione temporale, oggetto che rappresenta l'informazione temporale. Poi c'è l'operazione inversa, da oggetto a stringa, quindi questo che ho chiamato formattazione alla fine è un metodo to string. Allora, la data di oggi come la scrivo? 4 barra 4 barra 2022, scrivo 4 spazio aprile e spazio 2022, scrivo 040422, cioè ci sono tanti modi diversi di rappresentare sotto forma di stringa un'informazione temporale. Quindi queste due operazioni sono due operazioni di base per leggere e scrivere queste informazioni o costruire una data conoscendo giorno, mese, conoscendo i vari componenti, no? E quindi devo avere un metodo che possa creare un oggetto data non necessariamente partendo da una stringa, ma partendo dal valore numero intero di anno, mese, giorno, ad esempio, che forse è anche più robusto che non andare a leggere una stringa in cui magari uno c'è scritto qualcosa di spagliato. Oppure, viceversa, estrarre le singole componenti. Tutti questi metodi sono necessari se noi vogliamo lavorare con degli umani che ovviamente hanno necessità di vedere le date scritte in un certo modo, perché poi internamente la macchina lavora solamente in tempo macchina. E poi, indipendentemente dal fatto che lavoriamo con umani o no, ci sono tutte le operazioni aritmetiche. Se rappresentiamo il tempo è perché ci interessa magari ordinare per data oppure calcolare la distanza di tempo tra due e venti. o cose di questo genere e quindi bisogna imparare a fare operazioni di somma-sottrazione tra queste date. Operazioni, che ve lo dico, lo richiamo poi nell'ultima slide, ma lo dico già adesso, non sogniamoci di farle a mano. Ok? Non sogniamoci mai di prendere una stringa e convertirla in una data o viceversa, codice Java noi con le sottostringhe e con operazioni di questo genere. perché altrimenti cadiamo in una delle mille trappole che ho citato prima. Perché di sicuro se ci mettiamo a scrivere del codice sarà un po' contorto, ma di sicuro ci dimenticheremo dei casi particolari. Quindi il nostro scopo, come sempre, è trovare qualsiasi una libreria valida per riuscire a gestire questi problemi. Cosa ci può venire in aiuto? Ci vengono in aiuto gli standard. Prima di tutto lo standard temporale. Io ho parlato prima di Fusorag di Greenwich perché è quello in cui normalmente viene chiamato, ma in realtà ufficialmente non si chiama ora di Greenwich ma si chiama UTC, cioè Tempo Universale Coordinato, che poi non coincide con l'ora di Greenwich perché anche a Greenwich possono mettere il regale, quindi ci sono dei casi, dei momenti dell'anno in cui l'ora di Greenwich non corrisponde con l'ora, con il Tempo UTC. Allora, il Tempo UTC è quello ufficiale a livello planetario. Noi possiamo sempre ragionare quando esprimiamo un orario, adesso sono le ore 10.22, 10.22 dove? Nel Fusorario dell'Europa Centrale con applicato un'ora legale di un'ora, un offset legale di un'ora. Allora, questa informazione dà il senso a cosa vuol dire che sono le 10.22, altrimenti potrebbe essere un qualunque istante di tempo se giro per il mondo. Quindi posso rappresentare l'orario nell'ora locale se so che la mia applicazione gira solamente diciamo così da noi, se invece facessi un'applicazione e soprattutto pensiamo che si fa applicazioni web che quindi non girano su un computer solo ma sono accessibili da tutto il mondo, conviene ragionare sempre universale e poi convertire avanti e indietro. Faccio vedere l'utente le cose nel suo locale ma il dato lo salvo nel database in UTC. E quindi ci sono delle regole che dipendono dalla zona del pianeta per passare per passare da UTC a ora locale che sono ovviamente più contorte di quanto noi potremmo sperare. Quello che si dice è che i governanti oggi hanno gli informatici perché di tanto in tanto cambiano queste regole. a parte appunto che le nazioni non sono divise sulla base di fusiorari sulla base puramente geografica della longitudine e latitudine ma sono divise sulla base di criteri politici e quindi ci sono dei confini che sono un pochino strani vedete l'Islanda che pur essendo sotto la Groenlandia ha un fusiorario diverso la stessa Spagna che è più ovest del Regno Unito ma ha lo stesso fusiorario della Francia e dell'Italia ma queste sono cose a cui ormai siamo abituati ciò a cui siamo meno abituati forse è il fatto che ci siano delle fusiorari di mezz'ora sfarsate di mezz'ora e non di un'ora intera o che in alcuni casi si saltino dei fusiorari ad esempio vedete da qua a qua si passa dal più 3 dell'azzurro al più 5 del giallo e il più 4 l'abbiamo saltato quindi se tu attraversi questa linea di confine saltano due ore anziché un'ora sola ci sono ogni tipo di stranezze che potete immaginare state tranquilli che in qualche nazione del mondo ci sono adesso tutto sommato abbiamo già standardizzato la cosa perché se andiamo a vedere quando è nato il primo problema non è poi nato tantissimo tempo fa non è passato ancora un secolo da quando ci sia posto il problema dei fusiorari di come standardizzarli e 1950 in quegli anni questa è una tabella di fusiorari per città neanche per nazione hanno cominciato a preoccuparsi del problema con le ferrovie prima dei viaggi ferroviari se la mia città aveva un orario la tua città aveva un orario che era 5 minuti più avanti non se ne poteva non interessava nessuno perché comunque viaggiavo in carrozza quando arrivo lì dopo due ore non esistevano gli orologi da polso ci si faceva faceva riferimento al campanile della chiesa o del municipio della città quindi quello che contava era l'ora locale che mi davano le campane che mi davano gli orologi ufficiali quindi andava benissimo ogni città si faceva la sua ora e quando hanno cominciato a far viaggiare i treni chiaramente quando dicono quando il treno parte da qua all'ora di Boston deve arrivare che ne so a Chicago una certa ora se le due città non hanno lo stesso orario devo avere il tabello di conversione e si è cominciati qua in questo periodo qua a pensare a questo problema e poi via via siamo così arrivati alla versione di oggi agli standard della rappresentazione del tempo universale UTC e locale l'altro standard che è utile è quello della rappresentazione sotto forma di stringa delle informazioni data temporali c'è uno standard ISO 8601 e poi versioni successive che ci dice qual è il formato più corretto di rappresentare le date allora se io voglio rappresentare una data lo standard ISO ci dice rappresentare sempre in forma anno trattino mese trattino giorno e questo è il formato che non è il formato italiano in Italia noi faremo giorno barra mese barra anno però sapete che il formato numero barra numero barra numero lo usano anche negli Stati Uniti dove però la convenzione è mese giorno anno sono strani e non ci possiamo far nulla quindi sono convenzioni ambigue se io scrivo l'anno per esteso e mai abbreviato quindi 2022 mai 22 poi mese poi giorno ho tutta una serie di vantaggi uno è il fatto che non mi posso confondere non posso scambiare per errore anno e mese e due è il fatto che io rappresento una quantità avendo a sinistra le cifre più pesanti e in centro e a destra le cifre più leggere meno significative e quindi in qualche modo se io mettessi in ordine sotto forma di stringhe delle date scritte così me le ritrovo l'ordine alfabetico coincide con l'ordine temporale che è un vantaggio non da poco ma anche solo nella vita di tutti i giorni quando devo salvare le più diverse versioni di un file vedo persone che salvano il file con scritto versione del 3 maggio 7 giugno 9 luglio e poi questi qui sono ordinati per giorno del mese e quindi per trovare qual è l'ultima versione diventi strabico se invece tu scrivessi le date in questo modo le metti in ordine alfabetico l'ultimo è quello più recente nel caso in cui questo è ciò che ci suggerisce la norma ISO quindi questa sarà per noi la forma preferita di rappresentare il tempo per i nostri utenti non è detto i nostri utenti italiani preferiranno scrivere giorno, mese, anno e vabbè nelle librerie cercheremo di convertirlo nel caso in cui questo rappresenta una data se volessi rappresentare un istante di tempo rappresento il tempo sotto forma di ora minuti e secondi separati dal carattere di due punti e non dal punto come più spesso si usa in Italia e la lettera T per congiungere la data e l'ora oltre il tempo conviene anche specificare il fuso orario il fuso orario in termini di offset rispetto quindi distanza in più o in meno rispetto all'UTC Z oppure una combinazione di lettere che riassume il fuso orario Z corrisponde al fuso orario 0 quindi questo è un istante di tempo perfettamente specificato nel caso in cui avessi i millisecondi le frazioni secondo basta andare 18 punto eccetera eccetera poi ci sono altre formulazioni alternative sempre previste dalla norma ISO ma ci interessano meno ad esempio il fatto che i trattini i due punti possono essere opzionali ma rende solo la cosa meno leggibile non cambia la sostanza quindi questa norma è abbastanza complicata ma noi diciamo la cosa che interessa di più è questa la prima rappresentazione delle date che è quella per noi che sarà preferita ed eventualmente anche quella di data e ora ora di tutto questo discorso come si comporta java la libreria standard di java che cosa mi offre mi offre due classi che si chiamano date e calendar che sono un incidente di percorso la classe date è stata introdotta nella versione 1.0 di java la primissima e nella versione 1.1 è stata deprecata quasi per intero cioè se voi vedete vedere adesso nella classe date ovviamente esiste ancora ma la maggior parte dei metodi ti dicono non usare non usare non usare perché è deprecato perché si sono accorti che aveva degli errori di progetto non teneva conto di tante problematiche che abbiamo citato prima e allora cosa è successo tra la versione 1.0 e la 1.1 stiamo parlando di 15 anni fa che l'IBM ha visto che la classe date faceva schifo si è fatta una sua classe interna per gestire le date che ha chiamato calendar hanno voluto fare cose in grande quindi questo calendar era complicatissimo perché lui funziona con qualunque tipo di calendario ti possa immaginare cioè arrivassero gli alieni sulla terra e dicono il nostro calendario è così è possibile adattare la classe calendar per funzionare in quel modo quindi non necessariamente per anni, mesi, giorni ma anche per altri tipi di meccanismi quindi è particolarmente complicata e quindi è stata introdotta calendar anche nella versione 1.1 di Java è stata donata dall'IBM alla Sun per dire ok senti questa cosa qua funziona meglio della tua te la regalo mettila dentro solo che anziché re-ingegnizzare la cosa facendo insieme una classe che funziona sono rimaste la classe date monca con pochi metodi attivi e la classe calendar incompleta perché in realtà alcune delle operazioni che si possono fare con date non si possono fare con calendar quindi è una schifezza questo è rimasto fino alla versione 7 di Java dalla versione 8 che sarà 4-5 anni fa invece le cose sono cambiate perché hanno introdotto una nuova libreria un package che si chiama java.time che è stato intiamo così ispirato importato da una libreria open source che a un certo punto le persone stufe di lottare con le classi date e calendar che introducevano dei bacchi in loro programmi hanno cominciato a sviluppare una libreria alternativa che poi col tempo è stata poi riassorbita nella libreria standard di Java ed è quella che preferiamo usare ok quindi vi do solo due cenni sul perché le classi base fanno schifo e poi invece impariamo a usare la libreria nuova allora le classi base sono date e calendar la classe date che cos'è? non è altro che un numero intero è un oggetto date che come proprietà interna ha solamente un intero un long quindi è buona per rappresentare istanti di tempo calcolati dal primo gennaio 1970 quindi funziona abbastanza bene per rappresentare istanti di tempo se sottintendiamo il tempo UTC quindi non contiene al suo interno nessuna informazione sul fuso orario non è in grado di gestire dei secondi aggiuntivi quando si introduce il 61esimo secondo nel minuto non ne tiene conto ma il vero problema è che non è possibile rappresentare con la classe date una data cioè una data vuol dire oggi no sono obbligato a rappresentare una data e un'ora e un istante di tempo se volessi rappresentare la data di oggi sarai obbligato a dire la data di oggi alle 0,00 cioè metto a 0 l'istante l'informazione temporale però lui mi rappresenta comunque sempre un numero intero quindi un punto sull'asse dei tempi la data di oggi è un intervallo sull'asse dei tempi e io devo scegliere un punto all'interno di questo intervallo posso scegliere 0 con qualche rischio perché se io metto l'ora a 0 sto sottintendendo che a 0 l'ora di Greenwich e magari significa che qua è già il giorno primo o il giorno dopo se la prendo quell'istante di tempo in cui è mezzanotte del 4 aprile al tempo UTC al tempo italiano non è non è lo stesso giorno però questo così funziona si chiama date ma in realtà rappresenta date più time messi insieme rappresenta un istante di tempo può costruire il costruttore costruisce un oggetto date o partendo dall'istante di tempo attuale adesso oppure se io specifico conosco già il numero il numero di millisecondi dal 1970 e questi sono gli unici metodi che ci sono in questo oggetto che non sono più stati cancellati after before metodi di confronto che confrontano il valore intero di questo numero intero get time e set time che leggono e scrivono questo valore intero tra l'altro la nomenclatura fa veramente schifo perché un oggetto date ha dei metodi che sono get time non get date però settano il numero intero che abbiamo costruito col costruttore di date c'è una confusione totale non avete idea di quanti bacchi ci sono nel codice reale che gira per il mondo grazie a questa confusione mentale in cui non si capisce cosa stai facendo vabbè ha un metodo toString che converte in un formato fisso che è questo formato qui alla faccia del formato ISO se fate una print di un oggetto date vi stampa questa pappardella qua che è uno dei possibili formati chiaramente molto all'americana e poi vabbè equals hash code e poco altro dentro c'è un numero intero non è che faccia molto altro se io voglio stampare o leggere la classe date non è in grado di fare nel parsing nel formatting e si basa su un'altra classe che si chiama date format che tra l'altro non è neanche nel stesso package è un package separato che ha gli algoritmi per leggere quindi parsificare e formattare delle date quindi se io ho una stringa e voglio convertirla in data devo creare un oggetto date format e chiedere all'oggetto date format parsifichami la stringa e restituisci un oggetto date o viceversa format vado veloce perché poi non sono questi i metodi che useremo e questo date formatter ha diversi tipi di formati con cui si può diciamo così programmare full, long, medium e ci fa vedere i vari tipi di formati che possono saltare fuori nessuno dei quali ovviamente il formato ISO dico ovviamente in senso semi ironico così come è possibile chiedere al date formatter di localizzare la data quindi scrivere secondo lo standard di una determinata nazione e di un determinato linguaggio , vabbè poi volendo si può personalizzare fino al midollo il tipo di formato in cui si può leggere o scrivere questa data e ora qui andiamo avanti oltre a questo quindi posso leggere o scrivere grazie alla classe date formatter l'oggetto date non sa fare nulla nessuna operazione somma, sottrazione eccetera per questo serve così come non mi permette di sapere che mese è se io ho un oggetto date e voglio sapere adesso siamo a marzo o aprile l'unico modo che ho con un oggetto date di sapere questo è di convertirlo in stringa e andare a estrarre i caratteri che rappresentano nel mese e poi da string convertire in un intero andare a vedere quanto vale quel numero intero sicuramente non è la cosa né più furba né più comoda la classe calendar invece come forse dice il nome è in grado di capire qual è il calendario quindi ragionare in termini di mesi e giorni e settimane quindi converte tra un oggetto date che è un intero e i campi i vari campi di cui siamo abituati a lavorare questo oggetto calendar si può scusate ho saltato lo slide è un si usa in modo anche un po' strano nel senso che prima devo crearmi un'istanza di un calendario e questo mi dà un oggetto che è relativo alla versione locale del tempo e poi ho dei metodi tipo set time qui devo far ridere perché c'è un metodo set time che riceve un oggetto di tipo date per inizializzare un oggetto calendar con la data memorizzata dentro date oppure per impostare un certo campo cioè il campo intendo mese giorno quindi posso dire che set mese 4 set giorno 4 set anno 2022 e cambio i vari campi dell'oggetto tipo calenda questi campi sono rappresentati da costanti che sono definite dentro questa classe e qui sono l'elenco delle costanti del nostro calendario che è il calendario gregoriano che poi in realtà è l'unico in uso a livello mondiale praticamente l'unico ma in questa classe calenda invece è una variabile che potrebbe essere riprogrammata quindi ho tutta una serie di metodi che mi permettono ad esempio invece di settare dando direttamente anno mese giorno eccetera una serie di metodi che ragionano non in termini di istanti di tempo ma in termini di elementi di calendario però di nuovo per l'operazione di formattazione formatting and parsing quindi conversione dive per string la classe calendar non ha niente per cui quando io avessi un oggetto calendar che ho creato specificando anno mese giorno di oggi che sono formato un modo comodo per crearlo se lo dovessi stampare non posso allora devo prima prendere l'oggetto calendar col metodo get time mi da un oggetto date e attraverso questo date posso usare format creandomi un date format per arrivare finalmente nella stringa quindi quando uno lavorava con queste librerie con questi oggetti era costantemente obbligato a saltare tra tre oggetti diversi date format date e calendar perché ognuno aveva un pezzo del funzionale che gli servissero e continuamente passavi avanti indietro tra questi vari metodi questo era il passato oggi quasi abbandonato però ve lo racconto perché non è del tutto abbandonato purtroppo oggi invece che cosa usiamo usiamo un package che si chiama java.time di cui qua ci sono un paio di link se volete andare però a leggere che la faccio breve è molto più semplice lineare ordinato essenzialmente basato su due o tre principi molto semplici il primo principio è gli oggetti della classe date time scusate della classe java.time sono tutti oggetti immutabili vuol dire che non c'è che dopo che ho creato un oggetto non posso più modificare i suoi parametri non c'è nessun set tra i metodi di questi oggetti e questo semplifica di molto il loro uso perché se io voglio modificare un oggetto non posso l'unico modo che avrò è crearne uno diverso un altro nuovo con il campo modificato quindi non avrò un metodo per dire incrementa al giorno ma avrò un metodo che mi dice dammi la data di domani a partire dalla data di oggi qui tutti i metodi della classe della libreria java.time restituiscono sempre nuovi oggetti e non modificano mai gli oggetti esistenti questa è una regola sempre all'inizio può sembrare un po' strano ma poi evita spesso molti problemi in cui non so mai se sto modificando la ref ricordate il problema della volta scorsa in cui modificavamo passavamo una reference di un array non una copia dell'array qui non c'è dubbio e sono sempre copie e quindi per creare un nuovo oggetto ci sono dei metodi statici che creano un nuovo oggetto partendo dall'informazione che ho ad esempio ho un oggetto local date che è quello che useremo di più che rappresenta la data local nel fuso orario locale che può essere creato attraverso la conoscenza dell'anno mese giorno non è un new non uso il metodo new uso un metodo statico of che è un metodo di factory alla fine vedete un metodo statico di una classe che mi costruisce un oggetto di tipo local date con certe regole abbiamo già detto più volte a volte il new è troppo debole per fare le cose che ci servono e a volte servono dei metodi di factory che costruiscono gli oggetti ragionando un pochino di più se io so quando sono nato e voglio sapere quando compierò gli anni il primo anno non ho nessun metodo per dire al posto di 2012 scriviamo 2013 o avrò un metodo che a partire dalla data di nascita crea un nuovo oggetto con una regola in questo caso la regola è aggiungi un anno e mi restituisce un oggetto nuovo che sarà di nuovo sempre tipo local date che rappresenta il mio primo compleanno quindi si ragiona così costruisco un oggetto con dei metodi di factory e poi avrò una serie di metodi che mi restituiscono delle varianti degli oggetti dati modificate secondo ciò che mi serve e questi metodi possono essere in gioco si dice fluenti concatenati uno con l'altro perché ogni metodo applicato su un local date mi restituisce un nuovo local date ad esempio a cui posso applicare un altro metodo e così via quindi se volessi sapere quale giorno della settimana cade il mio primo compleanno farai questo metodo punto è il metodo che mi dice il giorno della settimana quindi in modo molto compatto non devo creare tante variabili intermedie fare passaggi di variabili avanti e indietro no? Quali sono le classi supportate in questa libreria sono tante a differenza di prima ma il motivo c'è ad esempio la classe local date che rappresenta informazioni che contengono solamente anno mese giorno guardate queste caselle di spunta mentre invece un oggetto local date sa di non rappresentare non lo rappresenta e sa di non rappresentare ore minuti secondi quindi io qui non ho l'ambiguità tra oggi e mezzanotte che è un istante di tempo preciso e oggi che è un giorno senza specificare il tempo perché in quel caso userei due oggetti diversi userei local date per rappresentare oggi oppure local date time che rappresenta non solo la data ma anche ore minuti secondi anche un istante di tempo a seconda che in questo momento mi interesse rappresentare un istante o una data un giorno uso oggetti diversi che si comporteranno in modo diverso quindi è diverso dire l'ora non c'è rispetto a l'ora è stata messa a zero perché zero si confonde con un istante ben preciso se invece volessi rappresentare solo l'orario c'è una classe local time che ha solamente ore e minuti secondi ma non ha anno e giorno con gli gt date se volevo rappresentare un orario puro l'avrei dovuto rappresentare con quell'ora nel primo gennaio 1970 80 assurdo invece qua ho degli oggetti che mi rappresentano delle sotto insiemi che mi interessano poi c'è anche un altro zone daytime che è un daytime locale con la specifica del fuso radio ma noi per fortuna non ci andiamo a impelagare e poi ci sono i sotto insiemi mese e giorno se volevo rappresentare il compleanno mi interessa mese e giorno oppure solo l'anno oppure anno e mese oppure solo mese c'erano oggetti diversi per rappresentare combinazioni diverse delle informazioni del tempo umano e queste tra di loro si capiscono queste classi queste classi offset non le guardiamo perché sono rappresentate rappresentano intervalli di tempo magari ci andiamo più tardi ma ci interessano meno quindi local date local time local date time e poi eventualmente year month eccetera sono le classi che ci interessano tutte sotto java.time e che metodi hanno queste classi? beh hanno quasi tutte le stessi metodi quindi hanno tutto un metodo tre metodi per creare nuovi oggetti di quel tipo metodi statici di factory quindi creano nuovi oggetti of from parse of lo crea partendo dai parametri dei suoi componenti abbiamo visto prima local date of anno mesogiorno from anche qui lo crea partendo però da un altro oggetto in cui c'è scritto attenzione che quando uso il metodo from potrei perdere dell'informazione cosa vuol dire? vuol dire che se io avessi un local date time lo voglio convertire in un local date perdo l'informazione delle ore e quindi avrò un metodo local date punto from local date time e quindi prende un sotto insieme dell'informazione di un altro oggetto e me lo crea l'oggetto che mi serve con un'informazione parziale oppure parser che direttamente lo leggi da una stringa poi su un oggetto che esiste posso convertirlo in stringa quindi con il metodo format posso interrogarlo get quindi dammi il mese dammi il giorno dammi il minuti ho degli is è giorno festivo cose di questo genere questo non è un metodo è una serie di metodi che iniziano con questo nome essenzialmente poi una serie di metodi with che sono l'equivalente immutabile dei metodi per modificare un campo quindi se volessi avere un campo un oggetto cui modifico anziché la data di oggi 4 aprile la volessi modificare il mese farlo diventare 4 giugno non posso modificare il mese però ci sarà un metodo sulla data di oggi che si chiama with month col mese 6 giugno e questo mi restituisce un nuovo oggetto uguale al precedente with con una modifica e queste modifiche in realtà possono essere di tanti tipi diversi ad esempio c'è dei metodi with che mi portano l'ultimo giovedì del mese o cose di questo genere e si fanno loro tutti i calcoli interni quindi io non devo andarmi a impelagare nell'interazione tra mesi e settimane ecc metodi ermetici somma su trazione metodi di conversione to to date to string to integer e cose di questo genere e questi sono una carrellata i metodi get che dicevo prima ti permettono di estrarre ovviamente dipende da quale classe stai usando se la classe local date avrai il giorno del mese o il giorno della settimana il giorno del mese dall'1 al 30 il giorno della settimana dallo 0 a 7 dall'unidio alla domenica il giorno dell'anno è misurato dall'1 al 365 quindi day di per sé ambiguo oppure posso avere il mese oppure posso avere l'anno quindi interrogo un local date le sue componenti se ho un local date time o anche un local time allora invece avrò anche i metodi per interrogare ore minuti secondi nanosecondi e cose di questo genere la differenza la differenza tra month e month value month mi restituisce un oggetto di tipo month perché esiste l'oggetto mese la month value invece mi restituisce il numero intero che rappresenta il mese stesso e quindi la libreria java.time mi permette di ragionare nativamente con questi oggetti in tempo umano ovviamente è anche in grado di rappresentare il tempo macchina però lo rappresenta come un oggetto diverso che si chiama instant che è poi l'equivalente della vecchia oggetto date rappresenta un numero questa volta di nanosecondi e non millisecondi quindi un milione di volte più preciso rispetto al primo gennaio 1970 ovviamente un instant non lavora con l'unità umane ma lavora sicuramente con l'unità di tempo le possiamo convertire avanti e indietro ma per poter convertire un istante in un local time ho bisogno di sapere il fuso orario locale altrimenti non posso fare la conversione questo è un esempio di codice che permette di interrogare il pc per sapere qual è il fuso orario su cui sta girando quindi all'inizio è un po' complicato ma alla fine ci si fa alla fine useremo pochi metodi ma ci si fa soprattutto c'è una buona e moderna documentazione di questi metodi e sono tutti molto regolari tra le vari tipi di classe per convertire dai verso string ci sono come dicevo i metodi parse e format in tutte le classi per default usano il formato ISO e non formati strampalati quindi faccio format mi stampa la data in formato ISO faccio parse leggo una data assumendo che sia in formato ISO quindi anno tattino mese tattino giorno se non mi piace lavorare con il formato ISO uso una classe formatter che anche qua esiste attraverso la quale posso modificare tutta una serie di dettagli su come voglio visualizzare quella data ci sono alcuni esempi con già una serie di variazioni sui formati ISO ma poi ci sono tutte le variazioni anche personalizzabili per cui posso costruire una stringa che abbia che ne so anno, due spazi punto esclamativo mese o quello che voglio essenzialmente poi a noi interessa abbastanza poco questo tipo di dettagli qui c'è un esempio di codici che ci fa vedere se volessi una data in formato anno mese giorno separati da spazi lo posso costruire creando una classe formatter e applicando il metodo parse oppure il metodo format quindi sia per leggere che per scrivere specificando anche questa classe formatter però il vantaggio è che mentre negli oggetti vecchi era molto frequente il passaggio a stringa perché non c'erano i metodi per fare l'aritmetica per fare i calcoli qua diventa molto più raro perché la maggior parte dei calcoli che facciamo li facciamo direttamente usando i metodi degli oggetti quindi che lavorano con gli oggetti veri allora io salterrei questa parte sull'aritmetica e sul temporal adjuster se non farvi vedere qualche esempio di metodi che data una data ne calcolano un'altra ad esempio data una data mi danno qual è il primo giorno il primo giovedì del mese del mese corrente oppure il primo giorno del prossimo anno partendo dalla data di oggi o cose di questo genere quindi sono metodi anche abbastanza articolati oltre a quelli ovviamente semplici del tipo aggiungo tre giorni se lo traggo due ore o cose di questo genere ma sono tutti metodi che sono facili da trovare nella documentazione se noi volessimo far evolvere il nostro esercizio sul libretto voti quindi gestendo anche la data quindi come potremmo agire vabbè facilmente noi avevamo una classe voto che a questo punto avrà la data in cui gestiamo il voto stesso e che tipo di oggetto sarà sarà un oggetto local date perché anche lì la registrazione del voto avviene in un certo giorno ma non è specificata un'ora né un fuso orario quindi al nostro oggetto voto potremmo ad esempio aggiungere un local date scusate prima lo metto là sopra private local date data local date dobbiamo ricordarci come tutti gli altri oggetti di questa di questa famiglia di importarlo dalla libreria java.time e si vede ops scusate ho cliccato sul posto sbagliato apriamo la documentazione così intanto ci fa vedere le cose che ci servono mi la tengo qua a fianco e quindi anche questo oggetto lo posso gestire normalmente posso creare il get resector quindi ad esempio aggiungo get resector per data che get data restituirà ovviamente un local date e se data imposterà il local date di questo oggetto voto lo sposto solo in fondo così li ho nel stesso ordine i parametri e chiaramente nel costruttore avrò un dis.data uguale data che dovrà essere passato al costruttore stesso local date data ad esempio quindi al fine usiamo questo local date come fosse integer come fosse string semplicemente come tipo di oggetto era un programma di test che aggiungeva nuovi voti adesso possiamo provare ad aggiungerlo aggiungere delle date e chiaramente adesso mi dà errore perché non ho anche il terzo parametro il terzo parametro dovrà essere un oggetto tipo local date nessuno ognuno local date punto abbiamo detto il metodo per creare nuovi oggetti è ov e qui ho due metodi ov alternativi anno mese giorno giorno o anno oggetto mese e numero intero giorno del mese quindi il mese lo possiamo rappresentare come numero int come intero oppure come oggetto month rappresentato come numero intero rappresenta il mese dell'anno da 1 a dicembre e il giorno del mese chiaramente da 1 a 31 un'altra stranezza degli oggetti date vecchi che era del mese contavano 0 non da 1 quindi questo creava altri bachi conviene secondo me usare la presentazione col metodo month così più esplicito quindi supponiamo che questo sia lo vogliamo mettere in data di oggi quindi abbiamo 2022 vado a capo così si legge più facilmente il secondo parametro è il mese allora se io uso la classe month ha tra le costanti tutti i nomi dei mesi quindi aprile e poi oggi è il 4 local day can we resolve perché non ha importato la libreria lo importiamo anche nel main di prova quindi questo è un modo per costruire un oggetto local date gli passo anno mese giorno il mese sotto forma di oggetto sotto forma di numero l'altro modo potrebbe essere invece magari lo facciamo sul secondo creare un oggetto partendo da una string in formato iso quindi in questo caso aggiungo la data local date punto parse uso il metodo parse che riceve una stringa del tipo 2022 facciamo finta che sia domani 0405 quindi sono i due metodi più diretti di creare una data in formato iso basta parse se invece avessi la data in un formato diverso devo creare un data in formatter in cui specifico qual è la posizione dei vari campi qual è il carattere separatore degli stessi e così via e idem gli altri due adesso magari facciamo delle copie modificando dei dati più o meno a caso tanto per vedere se funziona cosa c'è che non va ah si ho sbagliato le parentesi perché ho fatto un copia e incolla sbagliato ok cambiamo le date questo qua diciamo che è il 2021 maggio 14 mettere il numero a caso così vediamo che sono diversi 2021 07 20 stringing local date is undefined perché non ho ancora salvato la classe scusate e devo ancora modificare una cosetta nella classe vuoto cioè il to string perché altrimenti non stiamo stampando le date quindi andiamo nel to string vedete che abbiamo solamente nome punti aggiungiamoci anche la data più magari tra parentesi la data e la data cosa sarà? sarà this.data .format così ha bisogno di un formatter allora niente non diciamo nulla quindi usiamo il to string allora proviamo a fare un run di questo test libretto questo libretto non ha un to string scusate l'avevamo tolto ah scusa qui ho fatto casino perché ho preso la classe che usava già il database quindi non riusciamo a testarla adesso vabbè abbiamo cominciato a fare un passaggio lo devo fare nel secondo prima di poterlo testare quindi per testarlo devo spostarmi anche sul database scusate oppure dovrei andare a prendere la classe libretto che avevamo prima del database ma non voglio far casino col progetto quindi quello che stiamo dicendo è impariamo a usare principalmente questa classe local date e vedere quali sono metodi principali che ci mette a disposizione e come dicevo la documentazione è abbastanza chiara e qui abbiamo tutto l'elenco di tutti i metodi che ci possono servire sia aritmetici sia di interrogazione eccetera eccetera il lavoro non è finito appunto proprio perché questo non sta ancora girando perché noi dobbiamo fare l'ultimo passaggio che è quello di vedere anche con SQL come si combinano le cose perché noi questi dati oltre a leggerli e scriverli magari da una casella di testo o scriverli sulla console o sulla area di testo li dobbiamo anche memorizzare in database allora aggiungiamo il pezzo così così riusciamo a completare l'esercizio vedere data SQL allora la stessa domanda che ci siamo fatti prima ma come fa la libreria Java a rappresentare le date adesso ce la facciamo pensando a SQL come fa il linguaggio SQL a rappresentare le date e poi MySQL nello specifico MariaDB le rappresentano in modo standard SQL oppure quasi no e poi un conto è una data rappresentata nel database un conto è come quella data mi arriva in Java attraverso JDBC perché noi abbiamo già visto che JDBC fa già delle conversioni ad esempio facciamo un getString un getInt e in qualche modo cerca di fare un mapping tra i tipi di dato SQL e i tipi di dato Java tutta questa roba qua come si complica quando parliamo di date o di tempo che sono già complicati di per sé allora lo standard SQL è abbastanza chiaro dice come colonna di una tabella SQL questa colonna può avere tipo date e rappresenta solo date tipo time e rappresenta solo orari tipo timestamp l'hanno chiamato timestamp e non datetime perché gli è piaciuto così che rappresenta in una sola colonna una date e un time messi insieme quindi secondo lo standard SQL le cose sono abbastanza pulite una colonna o solo data o solo ora oppure date ora combinate insieme timestamp si chiama poi volendo il timestamp ossia il time che il timestamp possono avere l'indicazione del fuso orario oppure no ma ignoriamo questa parte MySQL e MariaDB implementano una versione un pochino diversa dello standard MySQL può supportare delle colonne di tipo date come lo standard ma la differenza è che la colonna di tipo date di MySQL è in un intervallo di tempo più ristretto rispetto allo standard Rosanna dice ok qualunque sia l'anno invece MySQL dice no l'anno deve andare dal 1000 al 9999 e se il 9999 ci lascia abbastanza tranquilli il 1000 anche a meno che non siamo degli storici che dobbiamo rappresentare le date diciamo così in epoca romana o giù di lì questa è una limitazione MySQL non va più indietro dell'anno 1000 col campo di tipo date poi un campo date time che è l'equivalente di quello che nello standard si chiamava timestamp quindi una data e un orario messo insieme sempre ovviamente limitato dall'anno 1000 all'anno 10.000 scarso quindi ciò che nello standard si chiamerebbe timestamp in MySQL in realtà si chiama date time quindi la colonna che ci serve è di tipo date time perché in realtà in MySQL esiste anche una colonna di tipo timestamp ma si comporta in modo diverso rappresenta ovviamente ora e data ma solamente dal 1970 al 2038 perché è un numero in millisecondi su 32 bit e quello è l'intervallo di rappresentazione che può avere e rappresenta un numero intero in millisecondi tanto questo è in millisecondi mentre date time non ha i millisecondi perché ha solamente i secondi quindi bisogna scegliere se voglio più precisione o se voglio un intervallo di rappresentazione più ampio poi esiste un tipo time che però non va da 0 ai 24 ma va da meno 800 più 800 come ore stranamente normalmente il time se io sono le 22 e sommo 4 ore dovrei avere non 26 dovrei avere 2 del giorno dopo sottinteso se ho i giorni ma se non ho i giorni semplicemente l'oroggio ricomincia invece questo di MySQL no e poi ho un tipo anno che preferisco non usare perché può rappresentare l'anno su due cifre o su 4 e se lo rappresenta su 2 lui mette sottinteso un secolo un po' come gli piace in un certo senso quindi se l'anno è da 70 a 99 lui dà per scontato che sia nel 1900 se è da 0 a 69 dà per scontato che sia nel ventesimo secolo nel ventunesimo secolo quindi 2000 e qualcosa che è una scelta un po' arbitraria no 2069 non è che sia poi così lontano se devo magari fare un'applicazione che fa i mutui da 30 anni siamo lì quindi c'è il rischio che ci sbagliamo quindi sono delle scelte che arrivano dal passato come molto spesso capita dove c'erano certe cose che venivano date per scontate dove il 2038 dov'è qua quant'è lontano il 2038 eh non mi capita più tanto adesso e quindi tutti i database che hanno usato questo dato timestamp dovranno essere in qualche modo aggiornati oppure smettono di funzionare in quella data quindi vuol dire noi cerchiamo di non fare questi errori e non solo in MySQL esistono tutta una serie di funzioni che qui sono scritte in piccolo non stiamo a leggere tutte però ricordatevi che esistono che fanno già le operazioni sulle date per cui se domani dovessimo fare una query in cui dico prendi tutti i voti da una certa data in avanti oppure tutti i voti che stanno entro due o tre giorni prima o dopo un altro voto cose di questo genere beh io ovviamente posso leggere i dati dal database e portarmi in Java e fare i miei confronti con i metodi delle classi local date ma posso in molti casi farmi fare lo stesso calcolo già direttamente dal database ho dei metodi add date add time poi c'è un metodo add date e un metodo date add che hanno nomi simili diversi c'è sempre un po' di confusione su queste cose ma ci sono già quasi tutte le cose che ci servono date sub sottrazione tra due data e date diff differenza tra due date sono una cosa molto simile quindi quando non ha senso andare a studiare adesso in ordine alfabetico quando avremo un problema da affrontare diciamo che operazione diciamo così concettuale dobbiamo fare con queste date e andiamo a vedere se c'è un metodo a livello di SQL o un metodo a livello di Java per fare quell'operazione poi scegliamo quale troviamo più comodo facciamo fare il lavoro al database o lo facciamo noi nel codice sarà sempre una scelta da fare in cui ho messo dei link che portano ai riferimenti di queste funzioni e ci andiamo a cercare quando ci servono però noi non lavoriamo solo direttamente perché allora facciamo farlo adesso prendo la mia tabella del libretto voti e visto che avevo il nome e i punti posso aggiungere tranquillamente un'ultima colonna una colonna aggiuntiva che sia la data e questa data avrà vediamo qua su IDSQL mi dà una serie di opzioni di intervalli temporali date time year date time e time stamp e qui mi ripete la stessa documentazione che abbiamo appena visto nel nostro caso mi interessa date perché non mi interessa un'informazione temporale ma solamente quella del giorno quindi imposto una nuova colonna di tipo date salvo ho modificato la tabella a questo punto ho delle date che sono al momento nulle ma posso inserirgli dei valori adesso per fortuna MySQL è abbastanza furbo nel senso che mi permette già di editare la data non come string ma sapendo quali sono i campi e me la mostra in formato ISO inizializza supponiamo mettiamole tutte cambiamo un po' il mese l'anno in modo più o meno casaccio solo per vedere che siano diversi mettiamole anche qualcuno nel futuro così divertiamo qui ho messo un po' di date a caso nella colonna date in più che abbiamo nel database se vado a vedere sotto le query che ha fatto IDSQL ha usato il campo data se guardate nel formato ISO questo vuol dire che MySQL quando io faccio le query è in grado di capire in lettura e scrittura il formato ISO come formato nativo quindi non devo fare nessuna conversione particolare perché lui già lavora in formato anno mese giorno finché rimango in quel formato va bene quindi adesso nel mio database ho dei dati in una colonna di tipo abbiamo detto date adesso vorrei attraverso il mio DAO riuscire a leggere questi dati ricordiamo che il database noi a un certo punto avevamo un metodo libretto DAO dovevamo questo read all voto che leggeva tutti i voti creando gli oggetti tipo new voto adesso questo new voto non funziona più perché all'oggetto voto ovviamente abbiamo aggiunto la data ma ovviamente adesso la select asterisco from voti restituirà non due ma tre colonne vediamo se è vero ovviamente restituisce tre colonne nome punti e data allora questa colonna data che mi arriva dalla select come la converto in Java come la leggo attraverso JDBC in Java allora cosa fa JDBC beh JDBC introduce qui stiamo nello standard JDBC introduce due tipi di dato tre tipi di dato nuovi che si chiamano java.sql.date che non è java.utile.date bensì è una sottoclasse quindi la libreria JDBC si appoggia sulla classe date che noi speravamo di non vedere più e la modifica leggermente nel senso che essendo un oggetto tipo date è un istante di tempo quindi ha anche un'informazione sull'orario ma io lo sto interrogando una colonna di tipo date allora che cosa fa? lui mi crea una data nel giorno specificato a mezzanotte 0.00 che è la semiporcata di cui parlavamo prima però questo fa ok viceversa se avessi una colonna di tipo tempo mi trova un oggetto java.sql.time che guarda caso è sempre una sottoclasse di date perché la classe base era quella e faceva tutto lei che ti imposta ora minuti secondi a partire dal database dal primo gennaio 1970 quindi questo è ciò che ci dà la libreria JDBC due oggetti due oggetti fatti male volendo ci sia anche il timestamp che è l'unica differenza che ha anche le frazioni di seconda se vogliamo questi sono gli unici tre metodi che possiamo usare nei nostri get quindi quando io ho una data in realtà ho come nel nostro caso ho la scelta tra due opzioni ora leggo come stringa get string mi dà il formato ISO e poi mi partifico il formato ISO e mi ottengo un local date oppure meglio perché passare dalle string è sempre brutto uso un get date sapendo che mi restituisce un oggetto java.seql.date e su quell'oggetto preferisco non fare nulla non fare operazioni e convertirlo il più in fretta possibile in un local date perché so che funziona meglio per fortuna esistono dei metodi per fare tutti questi tipi di conversioni in particolare ad esempio dal metodo date qui sono i metodi e qui sono le classi ho fatto questa figurina che riassume tutto quello che ci serve sapere a livello di JDBC allora se io ho un oggetto date e voglio arrivare ad un oggetto local date ho un metodo che si chiama to local date applicato all'oggetto date quindi l'oggetto date che mi arriva dal database immediatamente lo converte in un local date con questo qua to local date se dovessi invece inserire dei dati nel database e quindi ho nel mio programma un local date ma mi serve un date sql quindi mi serve l'operazione inversa per essere da local date al date posso usare il value of del dell'oggetto che è un metodo statico di date quindi questi metodi qua sono stati aggiunti anche all'oggetto date della versione vecchia per facilitare le conversioni con con i metodi di java.time analogamente anche sui timestamp e sugli instants se lavorassimo con tempo assoluto con tempo macchina non con tempo umano ma normalmente lavoriamo sulle date qua sopra quindi nel nostro caso torno nel DAO dobbiamo aggiungere un terzo parametro che sarà facciamolo in due passaggi local date oggi data esame lo otterrò come result set punto get date nome della colonna data e questo è un oggetto di tipo java punto sql punto date date ma di tipo java punto sql punto date noi questo lo convertiamo in to local date eccolo qua il metodo to local date quindi noi per evitare di usare oggetti della libreria vecchia sempre appena leggiamo l'oggetto date lo convertiamo in un local date che è l'oggetto che ci serve e a questo punto lo possiamo aggiungere alla data esame local date ovviamente va importato anche nel dao quindi all'interno del nostro programma tranne per una frazione di nanosecondi in cui avremo un oggetto date ma lo convertiamo immediatamente in local date e al di fuori del dao non esce ricordiamoci che il dao già deve tenere tutte le cose sporche di sql e terrà anche per un attimo queste rappresentazioni sporche ma il resto del programma non lo vede adesso il controller si è un po' arrabbiato per cosa volevo provare a eseguire il programma che ruolo mi dà il controller qua a un certo punto si perché new voto per ora commentiamo un attimo quest'operazione giusto per vedere che almeno la visualizzazione funzioni eh no certo allora facciamo così local date punto now now è scorciatore per oggi quindi per ora visto che nel mio controller non ho ancora il campo per chiedere la data per ora dico ok quando inserisco un nuovo voto gli metto la data di oggi e con questo il controller dovrebbe essere contento e allora magari riusciamo a far partire il programma dove mi fa vedere che ha generato questo libretto con ah non guardate la tabella sotto perché stavo già preparando una prossima lezione in cui vi faccio vedere come si mettono i dati nelle tabelle quindi per ora mi è scappato ma non guardatela guardiamo la casella di testo che invece abbiamo creato noi nel controller e vediamo che oltre al nome e al voto c'è anche la data stampata in formato ISO qua quindi queste date le abbiamo lette direttamente dal file dal database facendo tutto il giro quindi database colonna date faccio la query jdbc converto in local date metto in local date nell'oggetto voto nel modello e poi quando il modello si renderizza come stringa viene aggiunta anche l'informazione sulla data adesso qui manca uno spazio perché nel toString mi sono dimenticato di mettere lo spazio quindi è tutto appiccicato qua ma ovviamente l'oggetto voto avrà il get data il get punti il get nome con cui possiamo fare ciò che vogliamo ovviamente per l'inserimento di nuovo corso proviamo se funziona se faccio aggiungi infatti mi dà un errore perché perché la loop.interception è una riga 52 perché mi dà l'errore ah sì mi dà l'errore perché ho provato ad inserire un nuovo voto ma non ho nella insert non ho inserito anche la data e quindi mi rimane null in quella colonna lui lo inserisce vedete l'ho inserito un nuovo voto di prova ma non ho modificato il DAO in modo da far inserire anche la data e ovviamente quando poi lo rilegge non si aspetta che la data sia null e quindi mi dà l'errore questo qua lo sistemiamo facilmente subito dopo si corregge quindi la versione successiva di questo avrà anche le date che per ora semplicemente leggiamo e visualizziamo ma poi sappiamo che possiamo fare tutte le operazioni che ci servono quindi come sunto e come regola di comportamento non usiamo mai date o calendar se trovate dei pezzi di codice in giro quando cercate su internet come si fa una certa cosa vedete che usavano il data o calendar non guardateli proprio perché sicuramente sono soluzioni contorte e quasi di sicuro c'è una soluzione più semplice se usiamo le classi di java.time facciamo attenzione quando creiamo una tabella in SQL a usare i tipi di colonna giusti che sono essenzialmente date, time oppure in myriadb date, time che non è un nome standard ma è quello più vicino al valore che ci interessa quando leggiamo una data facciamo come abbiamo fatto adesso la converte immediatamente in local date i metodi del DAO non dovevano mai né ricevere né produrre dei valori di tipo java.sql punto date o time quando è possibile visto che il database è capace di rappresentare le date e fare le elaborazioni sulle date facciamolo fare al database quindi andiamoci ad andare a guardare i metodi che ci offre SQL qui ci sono un po' di teschi su questa pagina perché ogni tanto abbiamo delle tentazioni a cui dobbiamo resistere tipo se all'interno di un programma uno deve dire guarda confronta il dato di oggi col dato del giorno dopo di domani a volte ti viene voglia di dire ok oggi è il 4 domani è il 5 allora diciamo giorno più più ah però attenzione che siamo alla fine del mese allora devo rimettere il giorno 1 incrementare il mese ma il mese non so quanto è lungo e allora comincio a complicare il mio codice per gestire un'operazione che in realtà è un'operazione già gestita dalla libreria quindi regola 1 se devo gestire delle stringhe delle date scusate resisto e non cerco di convertirle in stringa per poi questa è una cosa che si vedeva molto spesso con i date voglio sapere il mese allora prendo la data la converto in stringa estraggo i sottocaratteri li converto in intero per avere il valore del mese ma perché con l'oggetto date non potevo fare null'altro con l'oggetto local date ho il metodo get month value oppure get day of month e mi dà già direttamente l'intero quindi cerchiamo di quando ci serve fare delle operazioni sulle date usare i metodi giusti mai passare dalle stringhe così come mai pensare di fare tra di noi a mano quello che inizialmente era un day più più e poi aggiunge una serie di casi particolari che oltre a complicarci il codice e farci perdere tempo di sicuro ci saranno nasconderanno dei bachi a cui non avevamo pensato quindi queste cose che ci verrebbe da fare non facciamole perché c'è la soluzione migliore e più rapida ok quindi chiudo la parentesi di oggi sulle date e dalla prossima volta chiaramente le potremo usare nei nostri programmi noi ci vediamo mercoledì dove faremo un altro esercizio sulla ricorsione un po' per chiudere la panoramica grazie